Ciao ragazzi, siamo qui oggi per ricordarvi le 6 regole fondamentali che un buon rider deve rispettare. Punto numero 1, percorrere sentieri dove è permesso circolare solo in bicicletta. Punto numero 2, non lasciate tracce evidenti lungo il sentiero, frenate brusche o rifiuti vari. Punto numero 3, guidate con prudenza, rispettate i limiti di velocità in modo da avere sempre il controllo della vostra mountain bike. Punto numero 4, ricordate di dare la precedenza. Se trovate dei neofiti o della gente a piedi, rallentate, fatevi sentire con un campanello oppure passateli a passo d'uomo. Punto numero 5, non spaventate gli animali. Se vi trovate davanti a della fauna selvatica, non andate a infastidirla. Punto numero 6, pianificate sempre le vostre uscite, controllate il vostro equipaggiamento, non addentratevi in posti sconosciuti o al massimo affidatevi ad una guida locale. E ricordate ragazzi, caschetto, ginocchiere, buon riding e ci si vede nei trail.